Un argomento, due punti di vista. Su Agora. Con i mercati finanziari ancora ad assorbire i contraccolpi provenienti dal sistema bancario americano, gli analisti si interrogano sul futuro e le previsioni sono tutt'altro che chiare. Tommaso Padoa Schioppa è l'ex ministro delle finanze del governo Prodi e ora presiede il think tank Notre Europe. Laurent Cohen-Tanouji è un avvocato francese, autore di una relazione sull'Europa nella globalizzazione per conto dell'Europarlamento. In questa edizione di Agora si scambieranno i loro punti di vista su come i mercati globali e le istituzioni finanziarie europee riusciranno ad adattarsi a quella che è stata definita come la peggior crisi economica degli ultimi decenni. È la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale che una grave crisi finanziaria ha origine negli Stati Uniti, nel mercato immobiliare americano e nelle istituzioni finanziarie americane. Naturalmente, poiché il sistema finanziario è globalizzato e la fiducia, che è un fattore fondamentale di stabilità e anch'essa un fenomeno globale, questa crisi interessa la finanza internazionale e quindi anche l'Europa. Concordo, la crisi è già in Europa. È vero che l'esposizione delle banche europee sembra essere inferiore rispetto a quella negli Stati Uniti, ma vediamo che anche i mercati emergenti sono toccati dalla crisi. Il governo russo è stato costretto a chiudere la borsa di Mosca per due o tre giorni. La borsa cinese ha perso moltissimo. Nessuno è immune. Un aspetto di questa crisi, che mi sembra prettamente americano, è che le famiglie sono fortemente indebitate. Si sono fatte prestare denaro per l'acquisto di una casa e poi hanno la tendenza a spendere i frutti derivanti da un aumento di valore della loro abitazione. Quindi, se di colpo tutto questo si mette a cambiare, i consumi e le spese delle famiglie americane diminuiscono e l'economia ne risente. Quello che sta accadendo è che il sistema che chiamiamo finanza di mercato, cioè il nostro sistema da vent'anni a questa parte, oggi sta esplodendo. Sono stati assunti i rischi smisurati e quanto alle norme bancarie, in effetti abbiamo abbandonato la regolamentazione tradizionale del sistema bancario per andare verso sistemi di mercato che nessuno è davvero in grado di controllare o di capire. Il pericolo è questo. D'altra parte, per tornare all'Europa, possiamo dire che in questa crisi l'Europa si sta comportando piuttosto bene. È una gran fortuna poter contare sull'euro. Quanto alla Banca Centrale Europea, ha svolto egregiamente il suo compito, immettendo grandi dosi di liquidità nell'ultimo anno e coordinandosi efficacemente con le autorità americane. In più, oggi l'Europa appare una zona di stabilità e questo è una cosa molto importante. Sono d'accordo e in questo modo sono state smentite quelle previsioni e quei giudizi negativi che avevamo sentito quando adottammo l'euro. E si diceva che la costruzione che stavamo mettendo in piedi non avrebbe mai retto a una crisi finanziaria. Invece è stato esattamente il contrario. A mio avviso esiste però una grossa lacuna. La moneta è unica per tutti i paesi europei, la politica monetaria è comune, le iniezioni di liquidità vengono decise in tempi rapidi e con coraggio a Francoforte, ma la supervisione finanziaria resta frammentata tra paesi diversi. Non è omogenea, insomma, malgrado le direttive comuni e lo scambio di informazioni resta insufficiente. Quindi, se davvero uno dei principali istituti europei dovesse trovarsi in difficoltà, questi limiti si farebbero sentire con forza. In effetti ci si potrebbe chiedere se una crisi di questa ampiezza si fosse verificata in Europa, con il grado di integrazione che abbiamo oggi, a parte della BCE, chi avrebbe potuto in Europa supplire al ruolo del tesoro americano? È questo l'aspetto che dimostra il deficit di integrazione e di coordinamento di cui soffre oggi l'Europa finanziaria? Certo, e c'è da chiedersi non solo chi rimpiazzerebbe il tesoro americano, ma anche quale sarebbe il punto da cui osservare il sistema finanziario europeo nel suo insieme. Perché sotto il profilo monetario c'è la BCE, ma dal punto di vista finanziario non esiste alcun luogo in cui le informazioni siano raccolte e suddivise e per questo motivo credo che faremo meglio ad essere prudenti nel dosare il nostro ottimismo. E allora in futuro come faremo dopo la decisione che è stata appena presa dalle autorità americane? Penso che la chiave di tutto in questo momento sia la fiducia. Fintanto che la gente è nel panico, la fiducia non sale. Per definizione le crisi non durano a lungo. personalmente penso che ci sia altro oltre alla crisi acuta di questi giorni. C'è il fatto che, sullo sfondo, l'economia americana non può continuare a crescere a ritmi sostenuti restando legata al debito estero e con i prezzi delle materie prime così elevati. Le materie prime diventeranno sempre più care perché un terzo dell'umanità sta aumentando il proprio tenore di vita. Lo scenario che ci si presenta quindi è in ogni caso quello di una maggiore inflazione e di una crescita più lenta. Può esserci un'opportunità per l'Europa se riuscirà a uscire da questa crisi e prendere il posto che le aspetta, a fianco di un'economia americana con le difficoltà di cui ho parlato e dei paesi emergenti che sono anch'essi toccati dalla crisi e hanno un certo numero di punti deboli. L'Europa deve elaborare una strategia per la mondializzazione, una strategia positiva. La strategia di Lisbona, che è una strategia di adattamento alla globalizzazione, è certamente necessaria e va rafforzata, migliorata, ma l'Unione Europea deve dotarsi anche di una strategia economica esterna per poter influire sul processo di globalizzazione e giocare il suo ruolo. Dopotutto l'Europa è la prima potenza economica e commerciale al mondo. Ad oggi non riveste ancora il ruolo che le è proprio nella regolamentazione dell'economia mondiale. Sono d'accordo e credo che una delle lezioni che dovremmo trarne è che ci vuole più Europa, non meno, per affrontare queste crisi.